No, vabbè, devo andare agli elementari No, vabbè, ma è bellissimo sto gioco Ma che si sono? No! Devi... Sono i bulli? Non ci credo, sì O che cosa? Ma pestali! No, mi vogliono pestare loro Pestali tu, ragazzi! Cosa volete da me? Lasciatemi in pace, non ve li do i soldi della mia merenda Arrivo! Andate via! No, vabbè Stiamo diventando teenager, quindi dobbiamo passare attraverso la pubertà, questo è quello che dice E questi sono i peli che crescono, secondo me Anche secondo me E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Stef e questo giochiamo a Roblox Ebbene, sì, siamo tornati su Roblox con una mappa un po' strana e particolare Perché anch'io non l'ho ben capita Ok Però proveremo a giocarci È praticamente un simulatore di vita Ma proprio di vita vera e propria Cioè, ovvero dovremo nascere, crescere e poi non lo so Correre Perché non so come continua Capito? Quindi è molto, molto particolare Mettiamola così Non so, non vedo l'ora di provarla Costa 25 Robux Visto che, come avevo detto, siamo un po' in difficoltà con le mappe Siamo proprio andati a cercare qualcosa di particolare E questo sicuramente è particolare Allora, dobbiamo nascere e per nascere partiamo Quindi, obiettivo, nascere Però noi siamo in una cella filgorifera Che cos'è? Non è proprio normale Ok, siamo nati Allora Siamo in una culla, siamo nati Questa è la cosa più bella L'unica cosa che ho visto in questa mappa Ma è bellissima Praticamente Dobbiamo saltare in tutta la stanza Senza mai poter toccare il pavimento Ok Il classico gioco che fanno i bambini Per non svegliare la mamma E dobbiamo, credo, trovare la chiave della porta Quindi credo che noi stiamo scappando di casa Ma povera mamma Siamo appena nati Lo so, lo so È legge che vogliamo scappare Allora, vai prima te Non stare lì, non stare lì Torno indietro e poi salta No, mi ha beccato la mamma Non hai capito perché tu mi hai spinto fuori dal tappeto Mi ha beccato la mamma Cioè, era arrabbiatissima Aspetta, la voglio vedere Mi sa che ci stanno Vai nel pavimento No, mamma, scusami Non volevo furtire Non mi sa come è arrabbiata Sembri tu Si, assomiglia Non devi andare sulla cornice Devi saltare da lì Opla Opla Dimmi che ci arrivo Opla Ma quello è lunghissimo Lo so Ma scusa Non potevamo andare nella cassettiera E puoi andare lì Se vuoi Sì, sì Ha senso Ha senso Non ci avevamo pensato Scusami È più semplice Perché mi devi fare fare Colpa mia Sti salti Sì, vabbè Ma dove dobbiamo andare? È bellissimo La possiamo prendere Oppure ci dobbiamo arrampicare anche qui sopra? Allora, non so se da questa libreria tu caschi Quindi sto cercando di stare sempre nei bordi Ok, presa Ok, aspettami Credo Andiamo Dici, dici Secondo me sì Sì, ho aperto la porta Ok, aspetta che arrivo Ma mi ha beccato la mamma Mi ha detto che potevo uscire Saltando Guarda adesso Dobbiamo trovare 5 oggetti Sicuramente i suoi pupazzi preferiti In tutta la casa Allora, lì ci sarà l'uscita, immagino Andiamo di sopra Vieni, andiamo di sopra Qui c'è Sili Vieni È questa foca col cappello carinissima Ah, questo mi potrà servire? Sì Ok Siccome di certe cose non sono la traduzione Vado a casaccio Ok, l'ho preso anche io Perfetto Quello ce l'avevo anche io Poi sai che cosa ho? SpongeBob Anche io ce l'ho Davvero? Pingu non ce l'hai? Pingu ce l'ho anch'io Ok, ok Vedi E quindi dobbiamo cercare Pingu e SpongeBob E noi ce ne abbiamo un sacco simili Eh sì Qui? Eh... No E allora qui Qui, 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 qui Allora Vediamo un pochettino Pingu, eccolo No, Pingu Lo voglio E adesso? Questa porta non è per uscire Vieni, 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 vieni È tipo la cantina E ci sono altri oggetti Ah, ecco perché Allora Qua c'è un pupazzone No, non mi serve a me Allora, c'è un draghetto lì sopra Vediamo È tuo? Non lo so No, sarà mio Flamie Avrebbe senso Sì, è tuo È tuo per forza Ma ci sei salita? Da qua Mi spongebob È qua Cioè non avevi visto un quadro gigante No Io ho finito È beato No, vabbè, devo andare alle elementari No, vabbè È bellissimo sto gioco Io rimarrò qui per sempre Perché non ho idea di cosa stiamo Devo aspettare Però c'erano altri quadri di sopra Non è che tu ce l'avevi lì? Prova a tornare Perché i quadri io non ci ho pensato Ripeto, ho cercato anche su Google Cioè non ha traduzione questa parola Ma perché sono i nomi a cui hai giocato lì lui Eh, esatto Quindi come faccio a saperlo, capito? È molto complicato Era un porcospino Ok Dietro un armadio Ok Ci ho messo una vita Accidenti Dobbiamo trovare la strada per la nostra classe Questo è stato un incubo alle elementari, alle medie, alle superiori Per quanto mi riguarda Io avevo il terrore di perdermi e di rimanere capito E infatti guarda com'è rappresentato Con un labirinto Guarda, me lo ricordo esattamente così quando andavo alle elementari Oddio Ma dove sono finito? No, vabbè, io sono uscito Non è possibile Io sono in una strada chiusa Non trovo l'uscita Mi sa che ognuno va per sé Che dici? Sì, ma Ah, è difficilissima Cioè, da me Dici l'ha portato proprio fuori all'inizio Non è che qua Anche io sono uscito fuori, ma no C'era un passaggio segreto dove eri tu Ma che sì, sono No Devi Sono i bulli? Non ci credo, sì O che cosa? Ma pestali No, mi vogliono pestare loro Pestali tu Ragazzi E poi c'è la musichetta Che non posso mettere Però è bellissima Allora rappresenta troppo gli inseguimenti Non metteremo una simile Sono Jack e Matt Senza copyright Disgraziati Cosa volete da me? Lasciatemi in pace Non ve li do i soldi della mia merenda Arrivo Andate via Non ve li do i soldi della merenda Sei pronta? Andiamo Vai Corri Possiamo distrarli Siamo in due Lo scivolo Come ce ne andiamo? Saltando Salta Ok Dove siamo adesso? No, vabbè Stiamo diventando teenager Quindi dobbiamo passare attraverso la pubertà Questo è quello che dice E questi sono i peli che crescono secondo me Anche secondo me E' geniale Allora E' molto strana Io ragazzi vi ho avvertito all'inizio del video Questa è la mappa più strana che abbiamo giocato a Roblox in assoluto Confermo Assolutamente la mappa più strana mai fatta Questi peli fanno davvero male Te lo dico Escono all'improvviso Ci uccidono Per me è impossibile Io non so come si fa Neanch'io Devi saltare Correre Saltare Correre Mi sembra un buon piano Io ce la sto facendo guarda Aiuto Quindi un piano perfetto E Fereniki ce la può fare A battere i peli Ce la posso fare Ce la faccio Ti prego Dai ti prego Sono arrivata Vai Dai che ce l'hai fatta Ok anche io Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta E adesso? La prima discoteca La prima discoteca E vai E vai Quante emozioni stiamo vivendo Quante Questa cosa Ci fa una domanda Qual è la capitale Della Francia Parigi Ci sono passata pure io Io non le vedo le domande Dove le vedi? Ti devi avvicinare molto a lui Ah ok Allora Multiplo di 4 No è 4 moltiplicato per 4 Ah ok Ho letto male 16 No vabbè bellissimo Allora Aspetta non vedo la domanda Che ti chiede? Che cosa viene ai teenager in faccia? L'acne Quando non si lavano o mangiano troppo sugar Troppo zucchero l'acne L'acne E in inglese? Acne Penso che si chiami sempre acne Sì Acne Sì esatto Per quello ti dicevo acne Cioè ci sono due consolini che scrivo in chat E non capiranno mai che noi stiamo facendo un esame di scuola Cioè che Allora i consolini ci sono tutti E noi li scriviamo Paris 16 Acne Esatto E adesso Allora Family Guy Abbiamo superato il nostro esame Il nostro esame Forse è così facile Davvero Ok Adesso Ci dobbiamo sposare Siamo adulti Oh ci dobbiamo sposare Subito Eh Cioè di già È andata così Ok Con chi ci sposiamo? Beh Insieme Andiamo vieni Non lo so Allora Ciao prete Ciao Cosa dobbiamo fare? Ah ok I do I do I do I do Che sarebbe lo voglio I do A me non me lo fa più prendere Oh no Cioè non li avevi lette? No ti stavo aspettando Ok è inquietante Perché dovremmo scegliere tra il college e la galera? Che senso ha? Cioè nessuno vorrebbe andare in galera Se non vai al college ti imprigionano A quanto fare? La galera un po' mi tenta Vero Perché penso di potermi sentire a casa Che dici? Però dai andiamo nel college Dai andiamo nel college Facciamo da bravi su Secondo me sarà più difficile il college della galera Eh esatto È un trabocchetto Allora Eh 8 multiplied by 8 Dovevo starnutire scusami 8 per 8 60 Lo stavo sparando Sì era giusto 64 Ok infatti si è aperta la porta Però si è subito richiusa Aspetta Riscrivi 64 Ok Ok Perfetto Poi adesso Allora Quale Quale osso? Eh sì Cos'è il rib cage? Rib cage Cioè cosa Come si traduce? Rib cage Google translate Dovrebbe essere sternum Sternum? Sì Sì No riscrivilo Ok Io sono andato Ma no Aspetta Aspetta Te lo scrivo io Vai 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 No ma tu sei Eri troppo all'altro lì Ah ok Allora What is the square root of 4 multiplied by 16? Allora 32 Vai Aspetta che mi sono incastrata Eh Aspetta come si chiama? Lo so anche Lo so anche Dimmi cosa Non ho capito È praticamente il verde delle piante Com'è chiamato? Ah lo ho capito bene Lo so anche Cavolo Non mi viene Ma perché non lo facevi a scuola? No Come no? Il verde delle piante è verde No ha un nome È un pigmento proprio che si trova nelle piante Non mi viene il nome Google di nuovo Accidenti 2L Ok Ok Ma vabbè Lo so in italiano Allora Name Ok Allora Idrogeno e ossigeno Dai Dice che se non so la risposta Dovrei fare il reset character E venire No a me lo sai cosa è successo? Che ti ha buttato fuori Mi ha buttato fuori E sono Cioè sono riapparsa in prigione Non so per quale motivo Perché era il tuo destino Ha deciso che io dovesse finire in prigione Senza che io facessi nulla Il tuo destino era già segnato Eccomi qua Dobbiamo scegliere la strada corretta? A quanto pare sì E le altre fanno cadere? Ti uccidono Perché io ho provato E ti uccidono totalmente Cioè quindi non posso neanche usare il mio trucchetto Esatto Cioè dobbiamo andare a casa E non ci sono indizi? Ma è difficilissimo No non ce ne so Io non ne vedo Tu ne vedi? No Quindi No ma è terribile questa cosa Andiamo 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 Via 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 Un po' di fortuna finalmente E dove siamo? Dove siamo? Siamo vecchi Leggi sotto Dobbiamo trovare il nostro amore? Find il nostro amore perduto Ma è tristissimo Ma che cosa è triste Sì siamo al vecchio E 13 di 15 Quindi abbiamo quasi finito Siamo vecchi Oh no E dove è il nostro amore perduto? Qui non c'è Scopriamolo Non c'è Amore perduto Dove sei? Dove sei? Dove sei finito? Dentro il pozzo No no Abbiamo pensato anche la stessa cosa No c'è un cimitero Dimmi che non è il cimitero No ti prego eh Ti prego Ti prego Non ci voglio andare Era così bellino e divertente per ora Vaci Vai Solo c'è un'altra strada lì Lo vedi che dice? Io ho trovato una caverna Underworld Vedi sotto il mondo c'è una caverna Ok No dai prova il cimitero Io ho trovato una strana caverna e sto scendendo La vedi? La vedi lì? Vai provo Con le farfalle Ci provo No Allora E come facciamo a saperlo? Ah l'hai trovata tu la rosa però Qual era? Io Secondo me le puoi trovare tutte e tre No dice Ah si Tutte e tre le devi trovare Dobbiamo trovare le rose del nostro amore perduto Quali hai? Io ho orange Yellow e indigo Indigo Yellow e green Ok quindi una è diversa Qua ce n'è una però eh Sì a me non la fa prendere Evidentemente è un'altra possibilità ancora Non ho grigia Vabbè andiamo a cercare le rose Dimentichiamoci del perché stiamo cercando le rose Semplicemente Facciamo finta che siano per noi due ok Stiamo cercando dei fiorellini esatto Da darci a vicenda Al prossimo moriamo io te lo dico No Sono tristissima È un gioco allegro Allora queste Ah queste sono gialle Esatto infatti le abbiamo presi Ok infatti me l'ho data Poi per l'indigo seguimi Guarda dov'era il tuo E vabbè C'aveva ragione a non vederla Parkour Saltare sull'albero E poi era pure nascosto in mezzo alle foglie Vieni 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 Cioè devo andare lì Sì Oh no Dov'è Qua Eh vabbè ma Cioè l'ho vista proprio all'ultimo Non la vedevo Ok me l'ha data Andiamo a portare le rose Al nostro amore perduto Ce le stiamo dando a vicenda Non facciamo le cose tristi ok Il gioco vuole essere tristi Ma noi non possiamo esserlo Sì che lo siamo Siamo felicissimi Per niente Cupissimo Felicissimi Allora andiamo Ok no Questo è troppo Questo è davvero troppo Stiamo It's time to No no Non è il tempo No È tempo di raggiungere il tuo amore No Siamo ancora giovani qui Siamo finiti in paradiso Sì Oh almeno siamo in paradiso Vai Abbiamo finito Oh bello però il paradiso Ciao Angelo Afterlife Infatti la vita dopo la morte Ciao Angelo E vabbè c'è qualcosa da fare Eh vabbè Ciao Buongiorno Vorremmo chiacchierare Poi c'è l'under Andiamo all'inferno A vedere come è l'inferno Sì Che potevamo decidere di farlo Se non volevamo dare i fieri al nostro amore Vedi Ma no dai E cosa dovrebbe esserci qua Non lo so C'è un labirinto Tutto fatto di lava Me ne sono già pentito Perché abbiamo scelto di andare Perché abbiamo voluto vedere l'inferno Così in fretta poi E quella è la cosa preoccupante Non va bene la curiosità Era così bello il paradiso Cioè perché siamo scesi qui sotto In questo posto terribile L'inferno ci ha dato una dura lezione Non ci riusciamo Non ci riusciamo Peccato 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 Ci prendiamo un bel caffè Un Rimaniamo in questo posto bellissimo Per sempre E siamo qua felici e contenti Per sempre Ok Comunque mappa davvero fantastica Le poche volte che troviamo cose davvero particolari Sono proprio fatte bene E sono super piacevoli da giocare Speriamo che vi sia piaciuto anche a voi Speriamo di trovare altre mappe È molto strana Così particolari e così interessanti Perché meritano davvero tantissimo E direi che ci possiamo fermare qua in paradiso Felici Che abbiamo finito la nostra vita Belli Spera che ci riesci così Se ci lasciateci un bel like E questa è la prima volta che vi ho detto il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Nella prossima Ciao 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 Ciao